Hai una voglia pazzesca di girarti e scappare il più lontano possibile per non raccontare la diagnosi brutta, diciamo. La cosa che mi riconosco è che io non ce la faccio scappare. Sono Roberto Furlan, sono un neurologo, un ricercatore e sono stato anche un obiettore di coscienza dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla molti, molti anni fa. Negli occhi delle persone che ricevono la diagnosi di sclerosi multipla c'è la paura, c'è la paura dell'incertezza del futuro. All'inizio veramente c'è la diffidenza perché non sanno se fidarsi delle parole di chi hanno di fronte, non sanno se quelle parole di incoraggiamento sul fatto che esista una terapia che funzionerà siano reali, siano vere, siano assolutamente credibili o se invece siano solo consolazioni. Non c'è una scuola che può insegnarti come si comunica correttamente una diagnosi. Io cercavo un'associazione a Milano dove potessi fare il servizio civile durante i miei studi di medicina. Cosa ha significato? Mi ha cambiato la vita. Ho visto persone diventare la propria malattia a prescindere dal grado di disabilità e quindi rovinarsela e diventare infelici perennemente ho visto persone anche con disabilità importanti che non sono mai diventate la propria malattia ma hanno figli, hanno professioni, hanno relazioni bellissime e cerco di raccontare questo cercando di incoraggiarli soprattutto a cercare l'aiuto che serve per non diventare la propria malattia. Roberto nella vita privata è un padre innanzitutto e anche un marito, non secondariamente al fatto di essere padre e il mio matrimonio è stato una festa di beneficenza per AISM perché con mia moglie ci siamo sposati dopo 23, ho perso il conto, 23-24 anni che stavamo assieme e francamente l'idea di fare una grande festa in cui poi dovevo riciclare servizi da tè, servizi da caffè, pentole, mi hanno detto no, assolutamente no. In Italia è fortissima la comunità che ruota intorno alla sclerosi multipla e il merito è principalmente di AISM che ha creato un contenitore dove tutti potevano riconoscersi e lavorare assieme. Ho il privilegio di aver visto questa straordinaria cavalcata degli ultimi oramai 28 anni perché è nel 1994 che arrivano i primi farmaci, prima o poi ci arriviamo a capire esattamente che cosa succede e perché in queste persone parte questo processo che non riusciamo a fermare nei suoi inizi. Sappiamo come controllarlo, adesso abbiamo una montagna di terapie molto efficaci, abbiamo cambiato la vita delle persone, le persone come io le ho conosciute durante il servizio civile sono sempre meno, stanno lentamente scomparendo e questa è una cosa meravigliosa dal mio punto di vista, ma la causa, qual è esattamente il motivo per cui parte rimane elusivo e questa è una cosa che è il sale della vita di un ricercatore. Tu vuoi un mistero da svelare.